Un passaggio di testimone dalla vecchia alla nuova generazione di artisti napoletani. Questo è stato il concerto Passione The Next Generation, inserito nel cartellone del Campania Teatro Festival. Anna Teresa Damiano. Il filo rosso ha radici e ali. Le radici sono il passato. Le canzoni classiche avevano le ali. Le ali erano guardare al mondo. Radici e ali, i classici mai uguali a se stessi, reinventati ogni volta. I brani degli ultimi anni diventati classici, materia a cui dare altre vite, con il filo rosso di sempre e la passione. Una nuova avventura dopo il film di Turturro, il primo tour, comincia dal Campania Teatro Festival. Fa parte della storia della musica napoletana, passarsi il testimone, quindi dopo aver fatto questo spettacolo tanti anni. È come essere padre e figli, no? Voglio dire, sono molto contento a volte che le generazioni credono in questa dimensione, no? La dimensione che poi è la nostra cultura popolare, no? Padri e figli, Raiz, James Enese, Peppe Servillo, Francesco Di Bella, Dario Sansone, Roberto Colella, Malvestro, Gnutti, Irene Scarpato, Simona Bo, Flo. Il mio si affrontano torno. È un modo di ritornare super colorato, super... Diciamo che è un arcobaleno, ma facciamo che così. Avevo la voce del creatore, che sai che è chiaro e chiaro, e tu sai che non sei solo.